Prima edizione di Iro Abu Dhabi ad Ayriat Island, la prova regina del cross country olimpico a chiusura di Iro Abu Dhabi ad Ayriat Island 2024, ha visto trionfare l'australiana Rebecca Anderson ed il neozelandese Ben Oliver. La gara ha visto al Via Atleti in rappresentanza di 47 nazioni, nell'unica prova del calendario UCI della penisola araba e che apre la stagione off-road che culminerà con le Olimpiadi di Parigi 2024. Intanto stiamo vedendo le immagini che riguardano la manifestazione dedicata ai più piccoli, esame ampiamente superato per la prima edizione di Iro Abu Dhabi ad Ayriat Island e che ha visto oggi 11 febbraio andare in scena l'ultima gara in programma, la prova cross country di classe 1 e che è l'unica competizione del calendario UCI nella penisola araba. Prestigiose le griglie di partenza che hanno visto atleti e atlete elite da tutto il mondo sfidarsi nella prima gara utile per raccogliere preziosi punti per le qualificazioni alle prossime Olimpiadi di Parigi e a dominare sul tracciato trail dell'impianto sportivo di Adayriat Island sono stati Rebecca Anderson e Ben Oliver. Nella gara femminile, oltre alla vincitrice Rebecca Anderson del team Primaflora Mondraker, che ha fermato il cronometro a 1 ora 17 minuti 41 secondi, il podio femminile è stato completato con la seconda piazza della Svizzera Noelle Buri del team La Pierre Mavic in 1 ora 17 minuti 46 secondi e terzo gradino del podio conquistato dall'italiana Martina Berta del Santa Cruz Rock Show Pro Team, che ha concluso la gara in 1 ora 17 minuti 47 secondi. Intanto stiamo vedendo la partenza della gara elite maschile, dove sul più alto gradino del podio è salito il neozelandese Ben Oliver del team Denver Distruptors, che ha chiuso la gara in 1 ora 17 minuti 43 secondi. Il neozelandese ha sconfitto la concorrenza dello svizzero Thomas Litscher della formazione La Pierre Mavic Unity, staccato di 28 secondi. A completare il podio il tedesco David List del Lexwear Mountain Bike Team, che ha tagliato il traguardo in 1 ora 18 minuti 24 secondi. Atteso alla via anche Peter Sagan, che dopo tre dei sette giri del circuito non ha tenuto il ritmo dei primi ed ha chiuso al 24esimo posto. Bene gli italiani tre presenti nella top ten, con Simone Avondetto, quinto classificato, seguito da Filippo Fontana in sesta posizione e nono Daniele Braidot. Il campione italiano cross country in carica Luca Braidot è stato costretto al ritiro a causa di una contrattura alla gamba sinistra. Ma andiamo subito a sentire i protagonisti di questa prima edizione di Hero Abu Dhabi ad Ayrat Island. È stata una gara ad alta intensità sin dall'inizio, su un percorso estremamente veloce. Io ho aspettato gli ultimi giri per vedere chi resisteva e credo di poter dire di avere iniziato la stagione molto molto bene. Ho giocato molto di tattica all'inizio ma non c'è mai stato un momento di relax, sempre full gas. Non sapevo in che condizioni fisiche mi trovassi e questo comunque è il migliore inizio dell'anno che potessi aspettarmi per la mia stagione della mountain bike. Al suo ritorno in Italia siamo andati a sentire Filippo Fontana del Centro Sportivo Carabinieri Olimpia Vittoria. Diciamo che il posto in cui abbiamo corso è un'isola appena fuori da Abu Dhabi dove stanno creando dei comprensori sportivi e quindi ci sono tutte queste piste di ciclismo per fare strada o fuoristrada e avevano creato appunto il percorso su queste piste con degli ostacoli tipo Rock Garden e Passerelle però non era niente di difficile, anche il dislivello non era così importante. Appunto è una gara un po' diversa dal solito però ci siamo divertiti tutti. Siamo ritrovati giù, l'organizzazione della gara era tra l'altro italiana quindi avevamo ricevuto l'invito in parecchi e eravamo giù della mia squadra io e Daniele che anche lui è andato abbastanza bene, ha fatto nono. Quindi dai sì, ci siamo ritrovati là, ci siamo divertiti per un po' di giorni al caldo e ci siamo scappati dalla settimana fredda che era qui la scorsa settimana e dai, è andato tutto bene. Beh, è stata una gara divertentissima, molto diversa dal solito perché il percorso che abbiamo trovato era, sì non è il classico percorso a cross country però come inizio stagione, prima gara di mountain bike è stata molto divertente, particolare e con un altissimo livello tra l'altro quindi è stata una gara molto dura e niente dai, arrivavo dalla stagione di cross quindi la condizione era abbastanza buona ho portato a casa un buon risultato dai. Adesso inizia la stagione, manca veramente poco ormai per la stagione di mountain bike. Sì, noi inizieremo, cioè almeno io inizierò perché mi sa che sarò l'unico a iniziare a Verona e poi da lì in poi, dal 3 marzo, inizia la stagione delle gare internazionali qui in Italia e niente, poi ad aprile ci saranno le prime coppe del mondo e via dai, è iniziato un altro anno di già. Parliamo anche un po' dell'italiano di quest'anno, un italiano che è un percorso, tu lo conosci ce ne vuoi parlare, cosa ti sembra? Beh io ho corso le ultime due edizioni della gara lì a Pergine e il percorso è uno dei miei preferiti qua in Italia, in realtà è molto vecchio stile se si può dire, c'è una lunga salita all'inizio e poi il percorso fa guidare, è molto tecnico e divertente secondo me, ma anche molto duro e quello che mi piace di più è appunto la naturalezza del percorso un po' come una volta che però in ogni caso è molto tecnico, non è un percorso così scontato come potrebbe sembrare quindi a me piace molto e dai, le ultime due edizioni le ho vinte quindi sarebbe, per noi sia di buon auspicio dai. E l'obiettivo sicuramente principale, un po' per tutti, sarà poi anche le Olimpiadi. Adesso ovviamente sono tutti concentrati i corridori italiani per andare forte e saranno importanti soprattutto le prime gare di Coppa del Mondo per mettersi in mostra e poi, niente, le Olimpiadi sono a luglio, dipende se ci sarà un netto dislivello tra gli atleti a inizio stagione o meno e da lì verranno fatte le scelte.